E' giusto il momento della finalissima del torneo Ponte Girevole dalla stade Erasmo Iacovani di Tarant in capo gruppo lavoro service contro Artebagno ed allora andiamo subito con le immagini che era molto equilibrata all'inizio prima azione del giallo blu poi immaginano gioco le avversarie che trovano questo calcio di rigore per pallo di violante su ricchiuti che Mario Bley realizza regalando la rete del vantaggio decisiva ai suoi si chiude anche il primo tempo passiamo alla ripresa che offrirà poche emozioni a parte il doppio calcio di punizione Artebagno sul secondo si salva in corne del number one poi arriva anche il treplice fischio gruppo lavoro service batte Artebagno 1-0 ora lì nelle premiazioni